Ci hanno catturato vicino alla Piazza Verde, ci hanno aggredito, poi ci hanno portato in una casa civile dove ci hanno trattato bene, molto bene, soprattutto alcune persone ci hanno aiutato ed è grazie a loro se siamo riusciti a vederci in quella situazione. What newspaper? Corriere della Sera. The people who help us are really good people and that means that both sides, also in Gaddafi supporters, they are good people, only this I want to say. Because it was Gaddafi people who set you free as well as Gaddafi people who took you in the first place? Of course. There are two different groups, of course, but they are all belonging to the Gaddafi side. The people are lucky for you. Do you have any questions? I'm glad you have any questions. I'm glad you are. I'm glad you have any questions. I'm glad you are. alle persone care dell'autista che per permetterci di fare il nostro mestiere di giornalisti ha perso la vita, questo ci piace. Quattro giornalisti di cui una era una donna e una donna e noi gli facciamo gli apuri che vengono per la settimana. Penso che sia giusto per prendere le notizie, però con tutti i rischi e pericoli. È una scelta, ogni lavoro ha i suoi contro e va accettato per quello che è, secondo il mio parere. Grazie.